Formazione orchestrale al teatro musicale. Un master di primo livello per la formazione di professori d'orchestra specializzati nell'esecuzione del repertorio operistico. Un master che nasce dalle crescenti esigenze che hanno gli studenti di conservatorio, anche in ambito internazionale, di poter accedere ad esperienze concrete e specialistiche, specie in questo settore artistico, patrimonio culturale dell'umanità. Rivolto a tutti coloro che sono in possesso del diploma musicale di vecchio ordinamento o del triennio accademico di primo livello, o di titoli esteri equivalenti. Prevede, all'interno delle 1500 ore di attività formative e complessive previste dalla norma, 340 ore di lezioni frontali, attività laboratoriali e tirocini esterni. Aperto agli strumenti ad arco, ottoni e legni, il master si svolgerà presso il Conservatorio di Musica di Como, città il cui patrimonio naturalistico, culturale e storico ne fanno una meta di interesse internazionale, con docenti interni e prime parti esterne di particolare spicco nel panorama nazionale ed internazionale del repertorio operistico. Docenti interni di storia, musicologia applicata, analisi e prassi esecutiva. Docenti interni di esercitazioni orchestrali, di musica d'insieme, di musica da camera e laboratori finalizzati alle discipline interpretative d'assieme. Per gli studenti del master, risorsa di particolare pregio e peculiarità professionale, sarà la collaborazione con il Teatro Sociale Aslico di Como, ente di produzione ed anche formazione che arricchirà il planning del progetto con attività esecutive mirate di produzione, oltre che atelier, seminari e spazi laboratoriali propri del know-how del teatro stesso. Tutti i crediti formativi acquisiti al termine del master potranno essere integralmente computati all'interno del piano degli studi dei BN di secondo livello del Conservatorio di Musica di Como.